allora è un'operazione un po complicata si fa con le due cavicchie sono bloccate da sotto con i galletti abbiamo preso a ritenimento la presa utilizzando il binario che già abbiamo e praticamente adesso andremo ad accendere e vedere se funziona a Grazie a tutti. 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 Guarda un po' che non ho una punta adeguata per questo diametro. Ne ho trovata una da muro. Quindi con punta adeguata. Grazie a tutti. come di fare il buco. Adesso andremo. con una punta da 6. con la punta adeguata. la punta adeguata. che era appassionata. con la punta adeguata. quindi con la punta adeguata. con la punta adeguata. con la punta adeguata. Io stesso con la punta adeguata. 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 erratholl. Grazie a tutti. Grazie a tutti.